Volevo chiedervi di... ecco, volevo chiedervi di... di dimenticare tutti gli schemi e le tattiche che abbiamo imparato in questi giorni. Ma tutti ci siamo imparate qualcosa? Perché io non me la sento di battere quelle poverette, cioè, ci ho pensato, ve lo giuro, ci ho pensato, ma non... cioè, è il loro giorno di gloria questo. Loro stasera torneranno in una cella che, vi giuro, non è come le nostre. E quindi io volevo chiedervi di... mettetevi una mano sul cuore. A me scusa, eh? Cioè, stai a chiedere di truccare la partita? Eh... no... 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 Cioè, no, io vi sto chiedendo di fare vincere il vostro spirito cristiano sulla foga agonistica, perché oggi non è importante partecipare, no! Non è importante vincere, no! Oggi è importante perdere, no! Sì, 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 un gol, un gol di scarpe, vi sto chiedendo un gol, un gol! A uno! Le suore sono schierate in campo e ora vi leggo le formazioni. Per le detenute abbiamo... Libera! La vedo la nera! Ehi, ma che fischia qua! Vonda! Veleno! La svedese! Allena giudizia veloce! Per le suore abbiamo... Delfina! Legitizia! Providenza! Ehi, ma che cosa è questa confusione! Pierina! Assunzione! Allena suore Amelia! E allora? Eh, allora, allora... Come si dice? Che vinca il peggiore? Ah, brava! No, come dite voi, che Dio ve ne renda merito! Nel primo tempo, le suore con la tradizionale casacca bianco-nera attaccheranno da destra. E l'abitro fischia, in questo istante, l'inizio dell'ostilità. VAMOS! Succede, succede! Ma è un falo da cartellino giallo! L'abitro fischio di continuare è incredibile! Ma lasciala! Ora! Non la lasciare! Bravo! Bravo! Non si deve far mai! Ma va, non si è fatta niente, dai! E meno male che è un amichevole, se era la finale di Coppa America che succedeva. Le gambe, spezzagli le gambe! Assunzione ha rotto il suo voto di silenzio, per forza gli hanno quasi rotto una gamba. Non ci posso credere, per l'abito è tutto regolare. Meno male che il suo Letizia ha riconquistato una palla e punta dritto verso l'area passaria. Fanno scoppiare i petardi! Questa non sembra proprio una partita amichevole. Terminator! Vai! Basta! Siettami! Ah, ma questo è rag! Ah, mio! Vai! Vai! È davanti alla porta! Il portale si estende a terra! È un colpo! Incredibile! Sembra che si sia fatta un pari con una posta! Ah! Vai! È forza! Un po' di entusiasmo! E che cosa sia... Ah! 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 Sì! Ah! Ah! C'è! Ah! 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 0-0 per loro. L'arbitro la munisce per simulazione. Ma non ti ha mandato quell'arbitro? Che l'asso faria? Ho mandato un caro amico di famiglia. Assunzione chiede il cambio a Sra. Amelia. Mi io, ma non ti ha mandato un'ai cura? Mi io, ma non ti ha mandato un'ai cura.